Buonasera, buonasera a voi. Sicuramente la notizia l'avrete appresa perché insomma l'hanno commentata e ne hanno parlato i giornali, senza però mettere in evidenza quello che è un punto secondo il mio punto di vista assolutamente inaccettabile. I giornali semplicemente hanno parlato di questa storia di Lecce Ronzulli che vi ricordo, Forza Italia è il capogruppo al Senato che lei contro tutto e tutti, perché gli altri hanno votato diversamente, ha votato contro il reintegro da parte dei medici. E sapete come l'ha giustificato? Dicendo che lei non poteva non rimanere coerente alla battaglia che ha fatto in questi due anni contro quei medici Novax che hanno messo in pericolo la salute della collettività. Ecco io vorrei dire a Lecce Ronzulli ma anche a tutti quei giornali che hanno commentato che Lecce probabilmente è rimasta appunto a due tre anni fa, all'inizio della pandemia, dove francamente non sapevamo nulla, dove non avevamo delle informazioni, no? E quando poi è arrivato il vaccino anche meno, no? Perché ce lo siamo sempre detti, anche questo è un fatto che non viene riconosciuto, viene in qualche modo, se non nascosto, ma si cerca di eclissare rispetto alle risposte che si dovrebbero dare di un vaccino che non ha seguito l'iter abituale che è quello di una sperimentazione che dura anni e anni, soprattutto perché bisogna andare a vedere gli eventuali effetti avversi. Questo a prescindere dal fatto se uno crede, non crede, se è pro, se è contro i vaccini, non è questo il tema. Qui era chiara la storia, perché ce l'abbiamo davanti agli occhi, un vaccino portato sul mercato in pochissimi mesi, perché dicono loro c'era una vera e propria esigenza, e anche qui possiamo aprire una parentesi. Quanti medici, quanti professori illustri hanno portato avanti le terapie, hanno proposto terapie assolutamente valide, come non ricordare il buon de donno per quanto riguarda la plasmoterapia. E allora, tornando alla Ronzulli, cioè non sapevamo nulla in quei mesi, specialmente durante il 2021, ma a distanza di due anni, quasi tre anni ormai, perché il tempo davvero passa velocemente, noi sappiamo tutto, ma sappiamo soprattutto una cosa, che è una palla grande come una casa, quella che dice Licia Ronzulli che i medici Novax hanno messo in pericolo la salute dei loro pazienti. Perché? Perché adesso sappiamo con certezza quello che magari non sapevamo inizialmente che tutti quanti, sia vaccinati o non vaccinati, possono contagiare. Ecco perché, scusate se uso questo termine, è una stronzata la posizione di Licia Ronzulli. Inaccettabile, assolutamente, che dimostra anche una certa cattiveria, secondo me, nei confronti dei medici che legittimamente hanno preso questa posizione, rispettando tra l'altro assolutamente la nostra Costituzione, cosa che invece spesso il Parlamento, e siccome Licia Ronzulli ne fa parte, non hanno rispettato. Quindi una posizione davvero assurda, che non sta in piedi, visto quello che adesso, visto quello che noi sappiamo in questo momento. Ma non sta neppure in piedi, visto che invece tutto il resto della maggioranza ha votato per il reintegro dei medici che si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. È rimasta Licia Ronzulli che vuole fare, appunto, la coerente quando qui non c'è nulla da essere coerenti, perché non è un fatto di essere coerenti, ma è un fatto di svegliarsi e lei dorme, è un fatto di svegliarsi prendendo coscienza di quello che la storia e la scienza ci ha insegnato in questi due o tre anni. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.